Eccoci qua di nuovo con la documentazione tra le mani dove possiamo vedere che effettivamente per quelli che sono gli elementi, gli argomenti esposti in quello che è l'handbook abbiamo visto veramente, veramente tante cose. Un qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle però è questo capitolo di narrowing, che vuol dire restringere, detto in maniera, o comunque circoscrivere, ed è un qualcosa che è stato fatto in maniera volontaria perché ci serviva essere un pochino più adulti nel nostro mondo di TypeScript. Che cosa vedremo? Vedremo un po' come effettivamente si può andare a restringere, gestire casi in cui le condizioni sono ambigue, di evitare di andare a lasciare errori all'interno del nostro codice. Facciamo prima a aprire il nostro progetto e postarci all'interno di quello che è la folder 02.realts e lanciare tsc.w. In questo modo rientremo in watch mode. Ci creiamo il nostro file narrowing.ts e andiamo un po' a vedere di che cosa stiamo parlando. Diciamo che sono argomenti abbastanza semplici e che probabilmente sono stati già utilizzati in quello che è il mondo di JavaScript perché sono un po' la base di come si lavora generalmente con le condizioni per andare a individuare in che casistica ci troviamo per poi rispondere in maniera. corretta. Un esempio molto banale è quello di andare effettivamente a utilizzare quello che è la parola chiave type off. Type off va a restituirci quello che è il type dell'elemento con cui stiamo lavorando. come un esempio avessi const a uguale a uguale 3. Se poi avesse una funzione che si chiama fn che accetta quello che è una stringa o un numero, quello che possiamo andare a fare è avere una funzione che appunto va a controllare che il type off sia effettivamente una stringa e solo a questo punto va ad applicare la proprietà delle stringhe per evitare appunto un errore. Ecco, type off ci serve esattamente a questo. Ovviamente andare a utilizzare type off come garanzia appunto per andare a svolgere alcune operazioni non è per noi una sicurezza perché se appunto avessi const b che non importa può essere tranquillamente di nuovo 2 scritto in questa maniera stupida avessimo const fn2 che va ad accettare quasi la stessa situazione ma in più va a gestire il fatto che sia null. ecco se vi fosse questo caso mettiamo caso anziché b per essere ancora più fastidiosi sia un oggetto scritto a 2 che non bisogna fare è il fatto di andare a controllare che if type off a sia un object perché appunto qualora lui fosse un object e io poi andassi a lavorare dicendo che voglio appunto ascolatemi A, ma si è giusto posso andare magari a pensare di lavorare con A.A peccato che qua lui ci va a salvare e ci avvisa che potrebbe essere anche NAL ma come è un oggetto ma vi ricordo che nel mondo fantastico di javascript se vado a fare type off di NAL mi becco quello che è un bel object o comunque anche un bel type off di un array mi becco un bel object quindi bisogna stare molto attenti con questo tipo di salvaguardia e quello che conviene andare a controllare è generalmente appunto che A sia uguale a uguale a NAL e andare a svolgere un'operazione quindi magari anche solo fare un return preventivo oppure controllare che effettivamente A esista qualora appunto A esistesse posso andare a fare delle operazioni altrimenti vado a fare un return quando mi trovi una condizione in cui è NAL o Undefined occhio anche appunto a questa casistica quello che si vede tante volte è andare a fare un check dicendo IF NOT A e poi si ritorna subito e poi si va avanti nel corpo della funzione in questo modo si evitano di svolgere blocchi di codice che poi effettivamente svolgono controlli che non servono a nulla quindi si ritorna subito alla condizione peggiore un altro operatore molto utile è l'in operator diciamo che se noi avessimo appunto quello che è un type chiamiamo fish quello che fa il pesce è appunto nuotare se poi avessimo un type bird quello che fa l'uccellettino bello è il fatto di andare a volare ecco se io appunto avessi una function che si chiama function se io avessi una function chiamata move che va a accettare quello che è un animale che appunto può essere un pesce o or bird ecco che io posso andare a utilizzare l'in operator per andare a vedere se effettivamente una chiave sia presente su un oggetto quindi vado a controllare che swim sia presente nell'animale che io vado a passare quando appunto la chiave swim esistesse sull'oggetto che sto andando appunto a passare alla mia funzione move allora so che esiste questa chiave quindi sono davanti a un tipo di fish e infatti typescript va a inferire che abbiamo tra le mani un pesce altrimenti sa che è tranquillamente un uccellettino e quindi lui potrà avere la props di fly quindi lì in operator serve a controllare che esista effettivamente una chiave all'interno di un oggetto molto molto semplice ma molto molto efficace un altro operatore che ci può appunto servire per andare a capire con che tipo di oggetto stiamo lavorando è l'instance off instance off ci permette di ricavare l'informazione se un determinato elemento sia figlio di di una classe o sia stato creato da una classe quindi tutto ciò che viene creato utilizzando ad esempio new date io vado poi a creare quella che è una data ecco io posso andare a individuare da parte di chi è stato creato questo elemento pure new array insomma tutto ciò che appunto viene creato istanziato a parte da una classe io posso andarlo a controllare quindi se ad esempio avessi const check date se avessi quello che può essere una data e una stringa io a questo punto voglio andare a svolgere delle operazioni differenti se mi trovo di fronte a un qualcosa che è stato creato appunto con const data uguale new date di date dot now ok questo è il mio oggetto data che passerò poi alla mia funzione oppure se una stringa voglio andare a svolgere altre operazioni come faccio a sapere questo grazie appunto alla parola chiave instance off vado a fare un if in cui cerco che date sia un instance off del costruttore date qualora appunto lo fosse andrò a ritornare date utilizzando poi uno dei metodi che è creato all'interno del costruttore del nostro costruttore date altrimenti andrò magari a fare return new date e a questo punto la creerò io a modo mio perché so che sto lavorando con quella che è una stringa quindi instance off ci permette di riconoscere da parte di quale costruttore è stato creato un determinato oggetto funziona anche appunto con le classi custom si crea una classe che si chiama gianni e gianni appunto va a creare delle istanze con instance off vedrò che è stato fatto da gianni sempre un po' su quest'onda quindi di andare a individuare con che tipo di oggetto con che tipo di type esattamente stiamo lavorando con chi ci stiamo confrontando ecco che esiste un metodo per andare un po' a predire con che cosa andremo a lavorare quindi generare delle funzioni che ci aiuteranno a individuare il type con cui stiamo lavorando torniamo un po' all'esempio in cui siamo con il nostro fish e con il nostro bird in cui magari andiamo a commentare questa sezione beh che in realtà non c'è bisogno di farlo però volevo portarlo giù i type possono anche essere portati giù rispetto alla definizione delle funzioni poi verranno portati in alto dal transpiling torniamo in questa situazione in cui appunto abbiamo bisogno di andare trovare un altro metodo per individuare se stiamo lavorando con un pesce oppure con un uccellettino ci serve però avere una funzione che noi possiamo riutilizzare tutte le volte che appunto differisca da questo ci serve qualcosa da utilizzare all'interno dei boolean if quindi creiamo la funzione function is fish dove andiamo ad accettare come parametro pet che appunto sarà un pesciolino o a sua volta un uccellino a questo punto io come faccio a individuare che lui sia un pesce o un uccellettino prima abbiamo utilizzato lino operator quindi andavamo a controllare che esistesse una certa chiave sull'oggetto qualora esistesse noi siamo sicuramente in condizioni di capire che stiamo lavorando con quel determinato type perfetto quindi ci basterà dire che per essere un pesce lui deve avere la proprietà pet.swim perché però typescript inizia a darci un errore questo perché? perché lui si trova nella condizione in cui potrebbe avere uno di queste due istanze e questa proprietà non essendo condivise in entrambe le type ci viene segnalata come se non esistesse su questo oggetto perché non è solo di tipo fish a questo punto noi cosa possiamo fare? possiamo andare ad aprire le parentesi e dire che pet is fish utilizzare questa scrittura si dice castare quando uno va a castare va, non dico a forzare ma va a dire con certezza, sicurezza che questo elemento pet sarà un fish a questo punto provando ad accedere ecco che io avrò swim a questo punto se questo valore non è undefined io sono sicuro di ritrovarmi di fronte a un pesciolino a questo punto la mia funzione è definita e se io andassi a utilizzare una funzione const move2 qualora appunto fosse un fish e quant'altro se io andassi a utilizzare is fish ecco che mi ritrovo di nuovo all'interno di quello che è un errore ma come ho definito una funzione che apposta si assicura che sia di tipo fish controlla che esista la chiave qualora non lo sia appunto lui è sicuro che ritornerà quello che è un fish quindi questo controllo dovrebbe funzionare e darmi la garanzia ma come possiamo vedere quello che sta ritornando alla nostra funzione è un booleano non sta ritornando in nessun modo il type qual è la soluzione in questo caso potrebbe dire di ritornare fish se io ritorno qua fish ottengo di nuovo un errore questo perché? perché lui ritornerà di nuovo un booleano non un fish la soluzione è quella di dire che appunto pet is fish forzando questa scrittura vuol dire che questa funzione quando ritorna un booleano che sarà true andrà a garantire che esso sia fish quindi detto in maniera terribile trasferisce la veridicità della condizione booleana verso un type a questo punto lui sarà in grado di riconoscere quello che è un fish e ciò che invece è un bird ok questa è una soluzione abbastanza elaborata che non si vede così spesso però se per sbaglio vince un paste in questa definizione sappiate che quello che state vedendo è esattamente cercare di avere delle funzioni predittive rispetto a un type con cui si sta lavorando